cara giulietta mi chiamo pietro e ho 39 anni ho visto il film lettere a giulietta e mi è venuto un impulso irrefrenabile di scriverti sono un simpatico pescatore di comacchio ho sempre il sorriso anche nei momenti meno felici più volte mi sono innamorato e spesso finiva più volte ancora sono stato lasciato ma vorrei dirvi che l'amore è un sentimento che ci unisce tutti quanti ci fa sentire capaci di affrontare le cose più difficili e di fare enormi sacrifici per la persona amata come in tutte le cose forse c'è anche amarezza soprattutto quando scopri che lei non era la persona che credevi a volte penso alle mie storie sento le emozioni di allora ancora sulla mia pelle i formicoli che ti danno i ricordi i battiti del cuore quando pensi ai momenti passati insieme anche al momento in cui la storia poi finisce sì penso che ho vissuto intensamente il mio amore anche quando ero al lavoro la passione non mi ha mai lasciato ho fatto cose da diciottenne come quella volta in cui ho inciso su un albero un cuore con le iniziali della mia ragazza che si chiamava valentina e questo mi ha dato un'emozione incredibile credo di aver scritto più di 100 poesie per questa ragazza penso di non essere mai stato banale con le fidanzate che ho avuto poche a dire la verità valentina è stata l'unica alla quale ho scritto poesie così intense piene di colori della vita e mi ricordo i momenti trascorsi sul lago di garda oppure i momenti a parigi le piccole cose come fare la spesa cose che adesso faccio fatica a fare da solo ora mi sto riabituando piano piano a vivere da solo ho incontrato nella mia vita persone amici di cuore che mi hanno sostenuto belle persone e ancora più bello anche essere sostenuto da degli sconosciuti a loro tutti loro dico grazie e dico che l'amore è una parte fondamentale di tutti noi ma se lo doni alle persone sbagliate è solamente sprecato adesso sto imparando a volermi bene e ad apprezzare le persone che ho intorno sì cara giulietta ti posso dire di aver vissuto tutto con sincero amore e con un'intensità tale che il mio cuore pulsava più che mai anche quando non dormivo per 24 ore lavoravo in mare aperto dove la fatica si fa sentire l'amore mi mi dava la forza per andare avanti mi sembrava di rigenerarmi grazie ai sentimenti che provavo tuo pietro italia 2015 infine 2015 ben 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 ben